Buongiorno naviganti, allora una domanda che ritrovo ogni tanto quando mi occupo di video per esempio in cui si parla di antichi astronauti, di contatti presunti con i nostri antenati da parte di civiltà extraterrestre. Allora la domanda è ma come mai bisogna credere al Dio, alla Bibbia e non si può credere agli UFO? È un'ottima domanda, ne parliamo oggi. Ben trovati naviganti, siamo nella settimana del Cicap Fest, lo sapete inizierà il 3 giugno, vi faccio vedere qui la locandina, il 3 giugno vedete la scienza del mondo che verrà a Padova, ci troviamo, siamo veramente tantissimi, ci sono più di 160 relatori che vengono a raccontarci gli sviluppi della ricerca e della scienza e tra l'altro c'è anche un appuntamento che tratta proprio di questi argomenti, dagli antichi alieni al solar punk, scenari immaginari sulle relazioni tra scienza e spiritualità con Stefano Bigliardi e Eleonora D'Agostino, moderati da Lorenzo Montali. Vi invito a partecipare se vi interessano gli argomenti di cui ci occupiamo oggi, perché ora vi leggo uno dei tanti messaggi che ho trovato di Andrea Lonoce che dice Una cosa non capisco di Polidoro, credere agli UFO è per lui una cosa assurda, ma credere in un Dio trascendente invece no. Gli extraterrestri non esistono in quanto non si sono mai fatti vedere, ma Dio invece sì, anche se nessuno lo ha mai visto. Allora, oppure ve la metto qui in una versione più condensata da parte di Stefano Brescia. Mentre bisogno di credere alla Bibbia sì invece, perché invece la Bibbia dice il vero? Ecco, questo è un succo interessante di osservazioni che partono da un presupposto francamente bizzarro, nel senso che il fatto di analizzare in maniera critica e scientifica certe affermazioni che riguardano presunti contatti extraterrestri, dovrebbe in qualche modo, secondo questi lettori, secondo questi altri che commentano, dovrebbe in qualche modo accreditare una versione alternativa, cioè quella biblica divina della creazione appunto raccontata nella Bibbia. È curiosa, è curiosa questa osservazione, perché personalmente non ho mai fatto nessuna dichiarazione in merito, proprio perché non mi occupo di religione, non mi occupo di fede, mi occupo di scienza, quindi mi occupo di argomenti che possono essere indagati con il metodo, con la strumentazione, con la sperimentazione, quindi con la scienza. Perché questo è un po' il problema di molte persone, quello di non capire la differenza tra i due piani, cioè quello della ricerca scientifica e quello della fede religiosa. La fede religiosa, lo dice la parola stessa, è una fede, cioè si crede in qualcosa indipendentemente dalle prove, si crede per fede, quindi è chiaro che siamo in un ambito spirituale, siamo in un ambito religioso, riguarda tutte le religioni naturalmente, non siamo assolutamente in un ambito scientifico. Nella scienza la parola fede non esiste, non si ha fede in nulla, si può avere fiducia, si può fare affidamento sul lavoro di certi ricercatori, certi laboratori, certi istituti, ma naturalmente non si ha nessuna fede in nulla. Le scoperte, ciò che noi possiamo stabilire come scientificamente dimostrato, attendibile, credibile, si basa su, appunto, come dicevamo, ricerca, sperimentazione, verifica, che va fatta a livello di comunità scientifica. Ancora una volta, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, la scoperta del singolo ricercatore non dimostra nulla. Nella scienza lo sforzo è collettivo, c'è una comunità di ricercatrici, di ricercatori in tutto il mondo che lavora proprio per mettere in discussione, mettere in dubbio, il dubbio è fondamentale nella scienza, quelle che sono le scoperte, quelle che sono le osservazioni di alcuni, per capire se ci sono degli errori, per capire se sono fondate e se non lo sono, come si possono migliorare le metodologie di sperimentazione per arrivare sempre più vicini ad approssimarsi a quelli che potrebbero essere i fatti autentici. Nella fede religiosa tutto questo non c'è, non ha bisogno di esserci, non c'è motivo che ci sia. Però l'osservazione per quel che riguarda gli UFO è interessante, perché evidentemente queste persone non hanno capito che è un altro ambito, cioè se noi parliamo di civiltà extraterrestri, se parliamo di contatti con dischi volanti, con appunto entità anche aliena, extraterrestri, non stiamo parlando di una fede religiosa, stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe accadere e che quindi dovrebbe essere verificabile, dimostrabile in maniera incontrovertibile. Se invece noi abbracciamo l'ufologia come se fosse una fede religiosa, a questo punto il discorso fila perfettamente perché non c'è più nessuna differenza, cioè se bisogna credere agli UFO e agli ischi volanti così come c'è chi crede, agli dei, alle divinità, nella religione, certo allora si è sullo stesso piano, non servono prove, se qualcuno vuole credere in assenza di prove è liberissimo di farlo, ma ripeto allora non è più un argomento che riguarda la scienza, non bisogna più avere la pretesa di essere creduti perché questi sono fatti, no, se diventa una fede religiosa, sei libero di credere a quello che vuoi, non puoi pretendere però che ci credano gli altri in assenza di prove, tanto più non puoi pretendere che la scienza costruisca dei modelli, possa intraprendere degli ambiti di studio su qualcosa che è solo una credenza, è solo una fede personale, individuale, anche magari di tantissime persone, ma pur sempre una fede. Ecco io credo che sia proprio un tema centrale che spesso viene frainteso evidentemente e che mi sembra più che mettere in luce così la poca, l'ambiguità di chi è scettico, perché non c'è nessuna ambiguità, è talmente lampante che si è scettici di qualcosa per cui non ci sono prove, così come appunto lo si è dell'ufologia, lo si è di tante altre discipline, possiamo dire. Per quel che riguarda la religione non c'è proprio il discorso, non c'è nemmeno l'interesse, se vogliamo, scientifico, per parentesi ci può essere un interesse antropologico, un interesse psicologico, sociologico, per capire come mai le persone credono in certe cose, come mai si sono sviluppate le religioni nel tempo. Ecco, questo può essere un interesse, diciamo così, in ambito culturale, umanistico e anche in parte scientifico, ma non c'è nessun interesse a verificare l'attendibilità delle affermazioni contenute nella Bibbia, se non da parte di qualche appassionato, ma non c'è una disciplina scientifica su questo, perché non è scienza, è un'altra cosa, è un discorso religioso, per l'appunto, che può riguardare, lo dicevamo prima, l'antropologia, lo sviluppo dei miti, la costruzione delle credenze e così via. La scienza è un'altra cosa. Noi quando si parla di UFO, di dischi volanti, vogliamo parlarne con i termini della scienza, cioè vogliamo capire quanto sono attendibili gli avvistamenti, quanto sono credibili certe affermazioni, certi presunti incontri, certe presunte prove. Questo è molto interessante dal punto di vista scientifico. Non è lo stesso ambito della religione. Dovrebbe essere lampante, dovrebbe essere chiaro per tutti, invece quello che vediamo, ed è questa un po' l'interpretazione che io racconto anche nel mio libro Il mondo sotto sopra, è che per molte persone il venir meno di una credenza religiosa, perché è considerata magari superata, considerata qualcosa non più al passo con i tempi da parte di molte persone, purtroppo non viene compensata da una maggiore consapevolezza in ambito scientifico. Il rendersi conto, per esempio, lo studio dell'evoluzione, lo studio della genetica, della biologia, di come siamo fatti, di come ci sviluppiamo, di come ci siamo evoluti, non è compensata da questo, ma lascia un vuoto. Quindi viene a mancare un supporto che per molte persone è importante, quello spirituale, quello religioso, ma non viene compensato in altro modo. Quindi ecco che quando spunta l'ipotesi extraterrestre, ah ok, allora non ci ha creato Dio, ci han creato gli extraterrestri, diventa un sostituto più o meno sullo stesso livello, perché sembra essere più coerente coerente con la civiltà tecnologica e scientifica in cui noi viviamo oggi. Magari non si crede più agli dei barbuti che stanno tra le nuvole, ma si può credere, per esempio, a degli dei, tra virgolette, che viaggiano in astronavi spaziali. In un'epoca appunto moderna e tecnologica sembra più credibile, però vissuta così è esattamente la stessa cosa, è una fede religiosa. E quindi a questo punto si capisce anche facilmente come per molte persone sia importante interpretare, reinterpretare certe storie, certe mitologie, certe leggende contenute nella Bibbia come se fossero descrizioni di avvistamenti UFO, combattimenti extraterrestri, tecnologia mai vista, eccetera, eccetera. Insomma, è un discorso abbastanza evidente, lampante, dovrebbe essere così per tutti coloro che se ne occupano, ma così non è. E lo vediamo costantemente. E i commenti, no, come questi che vi ho mostrato e come altri che si trovano sotto i miei video, ogni volta che tratto proprio questo tipo di argomenti lo rende piuttosto evidente. Io non so se oggi sono riuscito a far capire esattamente la differenza tra questi ambiti e non so se sono riuscito a far capire che io non ho mai detto che bisogna credere a qualcosa e non credere a qualcos'altro. Io ho sempre detto che per affermare che dei fenomeni, dei fatti siano autentici, siano autentici, siano genuini, è necessario portare delle prove. Tutto qui. E delle prove non vuol dire, no, come sentiamo spesso raccontare, dei racconti, degli avvistamenti, degli aneddoti personali. Ah, sì, ma io una volta ho visto una cosa che non mi sono saputo spiegare. Questo può succedere a tutti e le motivazioni per cui succede possono essere tantissime, no? Chiunque studi un po' la psicologia capisce quanto poco attendibili sono le testimonianze oculari, quanti bias ci sono nella nostra mente che ci portano a interpretare la realtà in un modo, anche se è in un modo completamente diverso. Sono argomenti affascinanti, non a caso io me ne occupo da tanti anni e continuo a studiarli perché è importante capire come funziona la nostra mente e come funzionano le nostre credenze. Quindi il nostro discorso è proprio qui. Cerchiamo di imparare la differenza tra gli ambiti. Se io parlo e se affronto questi argomenti lo faccio con un approccio scientifico. Se mi rispondete dicendo eh ma allora perché non posso crederci? La mia risposta non può che essere sempre la stessa. Ma certo che puoi crederci, puoi crederci, ma ci credi come se fosse una verità religiosa, una verità rivelata, una fede religiosa. non puoi affidarti a queste storie, a questi racconti come se fossero dei fatti scientificamente accertati. E per favore non continuiamo a tirare fuori le solite storie. Eh ma allora l'esercito, la marina americana che hanno, l'esercito, la marina americana, lo stesso presidente Obama hanno segnalato avvistamenti di che cosa? Oggetti volanti non identificati o nella terminologia moderna unidentified aerial phenomena, fenomeni aerei non identificati. Stop! Voi non troverete una sola dichiarazione, un comunicato stampa, un paper di qualunque tipo proveniente dalla marina, dall'esercito, dal presidente Obama o da chi volete voi in cui si faccia l'equivalenza oggetto non identificato uguale astronave extraterrestre. Da nessuna parte non esiste. Questa è solamente una costruzione di chi vuole assolutamente dare un'identificazione a questi oggetti non identificati. Perché non sono identificati? Lo abbiamo già detto tantissime volte. I motivi sono tanti. In quel momento non c'era la possibilità di osservarli nelle condizioni migliori. Gli strumenti in quel momento non permettevano di avere dei dettagli, delle misurazioni più accurate, più complete. E quindi si resta con dei punti di domanda. e nella scienza i punti di domanda ci sono, ce n'è uno anche qua, si va avanti proprio affrontando i punti di domanda e cercando un passo alla volta di vedere se si riesce a trovare delle risposte. Chi pretende di avere subito questa risposta, chi pretende di identificare subito i dischi volanti, no, comunque gli oggetti volanti non identificati con astronave extraterrestri, sta facendo un salto psicologico del tutto ingiustificato, ma diventa giustificato quando noi ci rendiamo conto che per queste persone si tratta di una fede, di un bisogno di avere quella conferma. Sì, ci sono gli oggetti volanti non identificati, ma sono extraterrestri, sono come le nuove divinità che ci osservano, ci proteggono, sono pronte a intervenire. Ecco, questi sono argomenti sicuramente affascinanti, interessanti per uno studio di tipo antropologico, sociologico e psicologico come dicevamo prima e su questi io sicuramente continuerò a indagare, me ne continuerò a occupare. Ripeto, mi auguro di avere chiarito un po' la differenza delle posizioni con questa mia risposta e vi invito nuovamente se avete la possibilità di fare un salto al CicaFest a Padova dal 3 al 5 giugno 2022 se vedrete questo video chissà quando ma il CicaFest insomma torna ogni anno ci saranno sicuramente altre occasioni in futuro perché qui si fanno davvero tanti incontri tante conversazioni tanti discorsi con personalità del mondo della scienza della ricerca della cultura che si interessano di questi argomenti con un approccio scientifico come dicevamo prima e sono affascinati da tutto ciò che è misterioso e da tutto ciò che sembra non avere spiegazione per il momento perché lo ripetiamo ancora una volta ma appunto non fa mai male ci sono tanti fenomeni tanti misteri che sono inspiegati se ne deve ancora trovare qualcuno che sia inspiegabile dove non valga nemmeno la pena tentare di trovare una spiegazione ce ne sono tanti che non hanno per il momento ancora una spiegazione magari non ce l'avranno mai perché non si ha la possibilità di poter indagare più a fondo e con questo noi dobbiamo abituarci a convivere ecco io ancora dunque vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e ci vediamo ormai al CicaFest a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.